Con grande piacere consegno questo riconoscimento a Matteo Traficante perché è un record man di altruismo e di generosità per le sue 165 donazioni di sangue. Lo faccio qua insieme al sindaco di Cambiano perché Matteo è anche presidente dell'Aidas di Cambiano, lo ringrazio a nome della regione e soprattutto che il tuo esempio sia davvero raccolto da tutte le persone perché donare il sangue è un gesto di profondo altruismo, di profondo amore, di profonda generosità di cui la sanità pubblica ha bisogno. E allora Matteo Traficante, presidente Aidas di Cambiano, esempio di altruismo che con il suo impegno ha donato vita e speranza alla nostra comunità. Il Piemonte ti è grato.